Al quinto Marocchino conquista la palla che va a Bredi, ma il tiro del 10 va alto. Poi attacca l'Ascoli, centro di Nicolini, Pircher di testa a vuoto. Al dodicesimo passa la Juve, dalla destra buon cross di Furino, sempre bravo, Tardelli di testa supera Brini, 1-0. Trentaduesimo, cross di Bredi, Scirea si avventa e Brini si oppone come può. Un minuto dopo, lunghissima azione di Marocchino, vedete da dove parte, fa praticamente tutto il campo, poi arriva nell'area grande e tira. Brini è battuto, ma c'è il montante. Ancora i bianconeri, Osti mette in area e l'ultimo tocca è di Galderisi, lo vedrete, Brini respinge con i piedi. Secondo tempo, settimo minuto, angolo per la Juve e Virdis di testa mette a lato di poco. Il pareggio al dodicesimo, va via sulla destra dei ponti e c'entra. Pircher è solo e batte Zoff. Trentaduesimo, Cabrini a Fanna, palla a Virdis che sbaglia di grosso. A cinque minuti dalla fine, brivido per i tifosi juventini, carambola tra Carotti, Zoff e Scirea che alza poi la palla sulla traccia.